Serve una pianificazione d'insieme per una città rifiuti zero, lo sostiene Legambiente di Trani, espressasi in merito alla gestione della discarica cittadina. I dettagli nella scheda. Legambiente Trani, attraverso un'istanza di accesso agli atti, è in attesa di acquisire la documentazione relativa al progetto di installazione di un impianto per il trattamento del percolato e la realizzazione di una piattaforma di trasferenza in località Puro Vecchio nella città tranese. Solo attraverso una compiuta analisi sarà possibile esprimersi nel merito e comprendere se tale impiantistica sia dimensionata alla discarica cittadina, specificano dall'Associazione Ambientalista. Resta l'esigenza di una valutazione complessiva e non limitata a singoli interventi che comprenda comunque il necessario impianto di recupero del percolato e le realizzate coperture parziali e provvisorie. Legambiente Trani ribadisce come non sia sufficiente un atto amministrativo o un cautelare provvedimento dell'autorità giudiziaria per considerare chiusa una discarica, ma solo colmandola integralmente come imposto tecnicamente dalla normativa vigente, la discarica potrà cessare di rappresentare un pericolo per il nostro territorio. A tal proposito si rende necessario un complessivo percorso che consente una definitiva e fattuale chiusura della discarica e una integrata pianificazione provinciale e regionale del ciclo del trattamento dei rifiuti. L'auspicio per Legambiente è che contestualmente alla realizzazione dell'impianto di percolato si riescano a intercettare le risorse economiche utili per un intervento di riparazione della lacerazione individuata nel manto dell'8-2bis, per poi procedere a colmarlo con rifiuti pretrattati e inertizzati grazie alla selezione operata nella piattaforma di trasferenza. Solo riportando tutta la ex cava ora discarica comunale a livello del terreno agricolo circostante sarebbe possibile porla in sicurezza. Ogni specifico intervento che riguardi la discarica cittadina dell'AMIU andrebbe collocato in una più complessiva pianificazione che consente ambientalmente ed economicamente di intercettare risorse finalizzate a operare gli interventi necessari e soprattutto a consentire di colmare la discarica per accompagnarla al compimento del suo naturale ciclo di vita, conclude Legambiente Trani. Sempre in una visione di generale gestione dei rifiuti del territorio comunale e provinciale, serve una corretta valutazione delle istanze di apertura di impianti di compostaggio ed eventualmente immaginare anche una seppur minima compartecipazione pubblica per assicurare una capacità di controllo e garanzia del rispetto degli indispensabili standard ambientali e di sicurezza.